Musica Terza visita nel giro di nove mesi per il premier Matteo Renzi. Oggi come ad agosto 2015, proteste e fischi. Questa volta a manifestare fuori dell'auditorium Renzo Piano, tenuti a distanza da un rigido cordone di uomini delle forze dell'ordine, precari della giustizia, lavoratori dell'ex paolo elettronico e dipendenti del call center a rischio licenziamento. Ad attenderlo all'interno della struttura realizzata a ridosso del Castello Cinquecentesco, il presidente della regione Luciano D'Alfonso e il sottosegretario Claudio De Vincenti. L'appuntamento è di quelli che per il governatore entrano di diritto nella storia dell'Abruzzo. Viene posta la firma sul Masterplan, il megapiano da 77 opere pubbliche per un miliardo e mezzo di investimenti, dalle piste ciclabili al sistema dei porti e dei trasporti su gomma, dalla cultura al potenziamento dei bacini sciistici. Ad attenderlo anche sindaci rappresentanti delle associazioni sindacali e datoriali, tutti in sala per celebrare quello che D'Alfonso ha ricordato sia il primo dei patti per il Sud varati dal governo sul quale il Premier ha posto la sua firma. Grazie per aver mantenuto l'impegno assunto ad agosto dello scorso anno, ha ricordato D'Alfonso, che ha citato alcuni esempi di interventi che l'Abruzzo attende da anni, come la diga di Chiauci o la fondo Vale Sangro. Il Presidente del Consiglio, nel corso del suo intervento, ha fatto appello alla tenacia e all'orgoglio degli abruzzesi, affinché, ha detto, i tempi vengano rispettati, le persone riacquistino fiducia nelle istituzioni e si sentono parte di una comunità. Ma riconosco nella passione e nella cura del singolo progetto un coinvolgimento che è lo stesso spirito che ha portato me e tanti altri a fare il signo per fare l'amministratore. Cioè, in altri termini, il tema del Master Plan, per il quale anch'io è di Nazio Claudio, è uno straordinario strumento perché tiene insieme l'infinitamente piccolo con l'infinitamente grande che ogni sindaco deve fronteggiare. Dalla macroeconomia al tema dei migranti, passando per i risultati del Jobs Act e le riforme costituzionali, temi di alto respiro che però alla fine hanno condotto al cuore della giornata, i 77 progetti del Master Plan, che da domani dovranno iniziare a prendere corpo. Il premier ha salutato la platea dando appuntamento al sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, entro fine agosto e annunciando una prossima visita alla città di Pescara. 1,5 miliardi di euro su tutto l'Abruzzo, 753 milioni messi a disposizione con il Fondo per lo sviluppo e coesione, 138 milioni disponibili già da subito, per completare e avviare non oltre il 2017 tantissime opere, tra cui storiche incompiute o opere attese e annunciate da decenni ormai. Questo è il Master Plan per l'Abruzzo, presentato dal presidente della regione Luciano D'Alfonso, dopo tanti contatti con il sottosegretario della presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti e con il capo dipartimento programmazione politica e economica Ferruccio Sepe. Scorrendo la lista degli interventi, molti sono quelli che riguarderanno la viabilità, come il completamento della Terramo Mare, della Fondo Valle del Sangro, della Statale 17 L'Aquila-Bussi e la viabilità minore, ma non meno importante, per le nostre aree interne. Epocale sarà anche la velocizzazione della Ferrovia Pescara-Roma, ma anche del tratto sul Mola-L'Aquila. Sarà potenziato, secondo il Master Plan, l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara, mentre nulla è previsto per l'aeroporto dei Parchi dell'Aquila. 60 milioni sono invece destinati a realizzare una rete di piste ciclabili, non solo lungo la costa, ma anche tra le aree interne e la costa. Si interverrà sui porti di Ortona, Roseto e anche in quello di Pescara, per risolvere qui l'annoso problema dell'insabbiamento. Sono previsti anche molti fondi per riparare e costruire nuovi depuratori, a beneficio anche del superamento dell'emergenza mare inquinato. Tanti saranno gli interventi di bonifica, utili a evitare finalmente le salate multieuropee e di messa in sicurezza idrologica di un territorio fragile e a rischio. Sarà completata anche la diga di Chiauci, in provincia di Chieti, ferma da 40 anni. Il Master Plan prevede anche interventi sull'ex ospedale psichiatrico dell'Aquila a Colle Maggio, anche se non è ancora chiaro cosa verrà fatto con i 10 milioni stanziati, di cui un milione solo entro il 2017, sull'ex Stella Maris di Montesilvano, sull'ex manicomio di Teramo e sull'ex casalma bucciante di Chieti. Il termine per il completamento delle opere in stato avanzato di progettazione è quello del 2017, opere che hanno la priorità del 2020 invece per tutte le altre in elenco. Dai precari del sistema giudiziario abruzzese ai lavoratori del call center Globe Network fino ai dipendenti delle aziende Hitec, Intex e Tecnolabs, un tempo fiore all'occhiello dell'ormai ex polo elettronico dell'Aquila. Un mix variegato di storie di donne e uomini diverse tra loro che si sono dati appuntamento all'Aquila per protestare e chiedere certezze sul loro futuro al capo del governo Matteo Renzi. I manifestanti sono stati tenuti a distanza dalle forze dell'ordine. Gli scontri e disordini dello scorso mese di agosto quando Renzi si seregò all'Aquila per la prima volta non si sono verificati. Solo fischi e slogan che seguono quelli dell'altra protesta eglatante andate in scena solo qualche giorno fa in occasione del passaggio del Giro d'Italia. Andremo da Matteo Renzi per chiedere che sostenga la nostra causa di continuità del lavoro all'Aquila. Quindi chiediamo a Renzi che dia, ancora una volta, lo ribadisco, la possibilità ai 234 lavoratori di Club Network di continuare a lavorare per H3G. Di cercare di mantenere soprattutto l'economia italiana perché con la nostra azione stiamo fermando tutte le accierie. Quindi automaticamente l'economia si ferma. E non sono solo 80 persone che rischiano di perdere il posto ma saranno più di 100.000 perché fermandosi stiamo collassando il mercato dell'acciaio italiano. Ha dichiarato la cassa integrazione, quindi un percorso verso la chiusura dello stabilimento aquilano. Stiamo facendo un percorso con la Regione nel tentativo di riattivare e ricollocare i lavoratori in quelle che saranno le aziende che dovrebbero arrivare col 4%. Oggi siamo qui perché questo governo non può ignorare queste realtà. Non può ignorare una generazione di quarantenni e cinquantenni con figli che hanno una professionalità, una storia e una competenza nel momento in cui si dice che le nuove tecnologie, la ricerca, dovrebbero essere le linee portanti che ci tireranno fuori da questa crisi. Dal governo arriveranno i fondi per coprire i buchi di bilancio legati al posto terremoto e lo strumento finanziario sarà approvato nei termini previsti dalla legge. Ne è certa la senatrice del PD Stefania Pezzopane che in questi giorni è in contatto con la sottosegretaria De Micheli che detiene anche la delega per il terremoto abruzzese. Se i fondi arriveranno come promesso, pertanto, non si arriverà allo scioglimento del Consiglio Comunale anche se è tutta da volutare l'ipotesi che l'aumento della Tari possa essere scongiurata. Da Villa Gioia è partita una richiesta di almeno 18 milioni di euro. secondo alcune stime si potrebbe arrivare fino a 24 ma la sensazione è che da Palazzo Chigi lo stanziamento possa arrivare, ma in quantità inferiore, a quanto invocato dal sindaco Massimo Cialente che nelle scorse settimane ha avuto parole di fuoco sia per il governo sia per la sottosegretaria De Micheli. Forse non la scelta migliore in vista della decisione di uno stanziamento che potrebbe essere decisivo per non aumentare le tasse e tagliare servizi erogati dal comune. Si stanno valutando queste richieste che si è superata la fase più critica che c'è un impegno del governo a coprire le mancate entrate derivanti appunto dal fatto che il processo di ricostruzione non è ancora completato e le maggiori uscite derivanti dal fatto che la città ovviamente ha una sua organizzazione sociale molto più complessa che purtroppo costringe il comune a maggiori oneri, per esempio sul sociale, per esempio sulla viabilità, per esempio sui trasporti. Ci sto lavorando da molte settimane e tutti gli anni questo problema è stato risolto. Stiamo lavorando col sottosegretario Paola De Micheli a definire le somme, ma sicuramente entro il 25 il governo darà un segnale concreto al sindaco Massimo Cialente intorno al quale noi tutti stiamo lavorando perché mai e poi mai un governo che dà 6 miliardi ed oltre di euro per la ricostruzione farà avvenire meno questo consenso per qualche milione di euro. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS